ragazzi i toto è grande cosa eccoli questi sono i toto del 2014 dai gira testo caffè su dai zucchero caffè ok allora dicevo mi piacerebbe fare delle interviste delle interviste con tra di noi mi piacerebbe sentire qualcuno di voi qua in diretta casomai la sera verso le 7 vediamo di organizzare con moreno si si ti voglio bene anch'io moreno occhio che si vede non mi scrivete lo so vabbè dovete avere pazienza mi annoio poi chi non mi vuole vedere non mi vede insomma non è un problema suo quindi dicevo volevo fare queste interviste a qualcuno di noi per capire un attimino com'è la situazione da nord a sud ovviamente riferito alla gestione dell'amministratore del condominio quindi chi è interessato a fare qualche intervista chi è interessato a fare qualche intervista mi chiami mi contatti e intervistiamo qualcuno del nord qualcuno del centro e qualcuno del sud così anche per confrontarci tra di noi e capire e capire la metodologia di amministrazione del condominio anche in tempo di coronavirus nei vari punti d'Italia no? mi sembra una cosina simpatica che si può fare come pure dovremmo cercare di approfittare di questa situazione e se voi mi dite quali argomenti vogliamo trattare e anche in quali orari così abbiamo dato sono registrate su dai ve li potete vedere quando volete faccio un po' di saluti rapidi poi cominciamo dai Annalisa ciao Annalisa chi c'è? Giancarmi Nelastari Alfonso Mati Loretana dove è la gente? mamma mia Ludovica Ludovica Silvia Tiziana va bene e dai non vi rompo oltre allora sicuramente in questo momento in questo momento quello che serve di più è il l'impaginazione va bene dovremmo tornare dal coronavirus dovremmo mandare tutte le assemblee dovremmo impaginare il tutto e allora mettiamo un un consuntivo e una ripartizione di un consuntivo dai una una veloce abbiamo detto che qui abbiamo varie tipologie di di ripartizione il consuntivo facciamo un'anteprima non so neanche dove sto boh vabbè interviste fuori da casa sì magari e allora questo è un consuntivo ovviamente sono molte prove eccolo qua questo abbiamo detto che è la situazione economica già abbiamo vista che dirvi qua io ci metto la numerazione ma insomma questa è una mia segna mentale come l'ho messa molti me lo chiedono l'ho messa a mano sto coronavirus e l'ho distrutto anzi no questo proprio così allora come l'ho messa la numerazione l'ho messa a mano qua 1.0 1.1 l'ho proprio scritta ci ho messo proprio i cosi non serve sono solo mie lucubrazioni mentali ho chiesto di fare questo tipo di integrazione mi hanno detto che siccome la utilizzano in pochi non non serve e vabbè poi c'è l'anima mia me la sono scritta a mano quindi ho detto sull'impaginazione del consuntivo non vedo altre cose qui ci ho scritto il titolo bilancio consuntivo qua ecco qua bilancio consuntivo quindi il titolo della stampa la potete cambiare come volete e viene scritta là adesso vediamo la divertizione e questo è grosso via di pazienza eccolo qua bilancio consuntivo è quello che ho scritto io a mano e eccolo qui carino da stampare viene bene pulito non vedo altre cose da aggiungere su questa ricordatevi che queste tre linee va bene questo è il condominio questo l'ho inserito da qua andate su agenda ricordatevelo già l'ho detto quindi dovete utilizzare questo allora dovete utilizzare questo aspetta facciamo così e questo ok quindi questo è fondamentale ci dovete riscrivere tutto quello che vi riguarda fondamentale fondamentale e attivate i loghi sulle stampe cliccate qua sì e attivate la firma sulle stampe sì attivate nell'intestazione riportate l'iban io metto la formula di pgc pgc e questa e questa ok questo fondamentale ok andiamo a vedere la ripartizione la ripartizione abbiamo detto ci abbiamo l'unità io faccio questa qua per l'unità anagrafica allora stiamo sempre parlando del consultivo vi ho già fatto vedere che qui dentro c'è una fantastica personalizza vi personalizza le stampe e ve ne potete creare vari tipi insomma ci potete lavorare un attimino sopra su quello che è la la metodologia di stampa ok quindi giocateci un pochino qui dentro ci sono varie varie scritte potete cambiare il titolo delle colonne potete cambiare i caratteri lo potete scegliere più grande insomma giocateci l'ho già fatto un video già c'è allora la cosa che però vi volevo far vedere era questa di utilizzare la metodologia dei millesimi sotto invece che di lato eccola qua va bene questo vi dà la possibilità nonostante vedete questo condomino è molto molto grande sono 22 pagine di ripartizione del consultivo come abbiamo già detto la tabella B deve essere di deve essere una e ovviamente deve arrivare a deve arrivare in questo caso a 5000 sono 5 scale in modo che vi fa un'unica colonna senza troppi zeri non fate troppi fiorellini la cosa su cui potete giocare quindi vedete condomino molto grande ci sono tutte le tabelle 4 5 6 tabelle al massimo la colonna dell'esercizio precedente la tabella delle rate versate il conguaglio finale ok e la cosa su cui potete giocare è il carattere molto grande vediamo un po' che succede ecco va bene molto grande eccolo qua vedete qui che va va molto laterale oppure potete giocare che a me piace molto sulle millesime affiancati e tipologia al lato del coefficiente allora proviamo a spuntare questa vediamo che succede quanto sto 12 minuti va bene dai qualche altro minuto ce l'ho questa e questa proviamo a giocarci un attimino vediamo che succede anteprima quindi proviamo prima con la tipologia al lato del coefficiente non ce l'ho vediamo un attimo aspettate devo andare dentro la tabella millesimale tabella proprietà mettiamoci mille mille va mettiamolo tra parentesi va ci piace di più così mettiamo uno spazietto facciamo così facciamo questa poi facciamo questa tanto per far vedere la differenza questa questa e questa vediamo un po' come ieri abbiamo detto al lato va bene carattere rimettiamo normale anteprima vediamo un po' che succede eccolo qua quindi c'è millesimo e il millesimo accanto ok millesimo e l'importo sopra questo vi dà la possibilità di risparmiare molto spazio vi faccio vedere la differenza con i millesimi leviamo il coefficiente accanto e mettiamo i millesimi affiancati vediamo che succede quindi mette l'importo e i millesimi accanto eccolo là e già vedete che qua siamo andati oltre quindi siamo arrivati a 26 pagine in più non sta tutto all'interno della stessa colonna eccolo vedete importo e millesimi accanto quindi già quello vi fa recuperare questa spunta qua vi fa recuperare tantissimo spazio proprio una marea in più se ci mettiamo vediamo questo non spuntato e questo non spuntato vediamo che succede ovviamente a secondo di quello che ognuno piace per carità di dio ecco il coefficiente i millesimi stanno sopra eccolo qua e già guardate lo spazio abbiamo recuperato una marea ok molti mi hanno chiesto questa questa grandezza come si riduce e quella grandezza come si riduce basta leggere prima colonna 60 mettete 40 esagerate tanto per vedere che succede ecco vedete che si è ridotta qui si è ridotta guarda lo spazio abbiamo recuperato non vi piace così volete rimettere 80 vi piace più il nome con tutto in grassetto grassetto torsivo mettiamo grassetto torsivo dai vediamo un po' che succede ecco grassetto bella larga ci piace carino dai però a me piacciono i coefficienti accanto tipologia al lato del coefficiente la tipologia millesimi a me invece piace accanto e ce la metto ecco guarda che carina che gli ho detto bella caduce bella pulita importo millesimi sotto importo millesimi sotto quanto devi dare carina ecco questa è l'impaginazione vediamo se riesco a fare il carattere un po' più grande proviamo grande vediamo che succede no va fuori va fuori e lo facciamo normale ovviamente anche qui c'ho il titolo che molti ho detto come se cambia il titolo sopra c'è scritto titolo 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 ho cambiato qua riparto consuntivo non è che ci ho messo tanto e quindi ritorniamo sul normale vediamo un po' facciamo così va facciamo un'altra roba e facciamo questa 50 rimettiamo i millesimi accanto e facciamo grande vediamo che succede poi ovviamente vi potete fare un modello per ogni condominio ecco caruccio bello apriamo pure molto grande forse no ci abbiamo un po' di spazio no forse 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 ci entriamo vediamo un po' no molto grande no forse dobbiamo levare il coefficiente boh all'altro vediamo un po' che succede quanto sto eh 18 minuti oh ecco levando il coefficiente molto grande c'è c'entra vabbè dai io penso questa è la pagina carattere molto grande insomma per farvi vedere che giocandoci un pochino si riesce a lavorare orca stiamo a 20 minuti tantissimo e niente io vi sono costretto a salutarvi spero di avervi aiutato spero di avervi dato qualche spunto in più per poter imparare iniziamo a guardare questo gestionale per quello che ci serve e mettetevi lì piano piano e lavorateci sopra c'è tanto da guardare tanto da imparare e il fatto che io vi stimoli un pochino a farle le cose e fatele e fatele e basta su dai non abbiate sempre la pappa pronta grazie a tutti grazie a tutti un saluto grazie a tutti